Enrico VIII, un re controverso e influente. Enrico VIII Tudor, 28 giugno 1491-28 gennaio 1547, è stato re d'Inghilterra e signore d'Irlanda, inseguitore d'Irlanda, dal 21 aprile 1509 fino alla sua morte. È stato il secondo monarca della dinastia Tudor come successore di suo padre, re Enrico VII d'Inghilterra. Enrico VIII è una figura controversa nella storia inglese. Da un lato, è stato un sovrano potente e influente che ha lasciato un segno duraturo sulla sua nazione. Dall'altro lato, è stato un uomo capriccioso e impulsivo che ha preso decisioni che hanno avuto gravi conseguenze per il suo paese, la giovinezza. Enrico VIII nacque a Greenwich, vicino a Londra, nel 1491. Era il secondo figlio di Enrico VII e di Elisabetta di York suo fratello maggiore, Arturo. Morì nel 1502, rendendo Enrico l'erede al trono. Enrico ricevette un'educazione di alto livello, studiando latino, greco, storia e teologia. Era un uomo intelligente e colto, con un interesse per l'arte e la musica. Il matrimonio con Caterina d'Aragona. Nel 1509, alla morte del padre, Enrico VIII salì al trono all'età di 18 anni. Un anno dopo, sposò Caterina d'Aragona, vedova del suo fratello maggiore. Caterina era una donna devota e virtuosa, ma non riuscì a dare un figlio maschio a Enrico. Questo fu un problema importante per il re, che desiderava un erede maschio per garantire la successione al trono. La rottura con la Chiesa Cattolica. Nel 1527, Enrico VIII chiese al Papa Clemente VII di annullare il suo matrimonio con Caterina. Il Papa rifiutò, di che Caterina era la nipote dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V. Enrico VIII, a questo punto, decise di rompere con la Chiesa Cattolica e di fondare una nuova Chiesa, la Chiesa Anglicana. Si fece proclamare capo supremo della Chiesa d'Indilterra e soppresse gli ordini religiosi. I sei matrimoni. Enrico VIII ebbe sei mogli, di cui due furono giustiziate. La sua prima moglie, Caterina d'Aragona, fu ripudiata nel 1533. La sua seconda moglie, Anna Bolena, fu giustiziata nel 1536 per adulterio e alto tradimento. La sua terza moglie, Jane Seymour, morì di parto nel 1537. La sua quarta moglie, Anna di Cleve, fu ripudiata nel 1540. La sua quinta moglie, Caterina Howard, fu giustiziata nel 1542 per adulterio. La sua sesta e ultima moglie, Caterina Parr, sopravvisse a lui e morì nel 1548. La politica interna. Enrico VIII fu un sovrano autoritario che rafforzò il potere della monarchia. In politica estera, si alleò con la Francia contro la Spagna. La morte. Enrico VIII morì nel 1547 all'età di 55 anni. Gli succedette il figlio Edoardo VI, che era ancora minorenne. L'eredità di Enrico VIII. Enrico VIII è una figura controversa, ma è innegabile che abbia lasciato un'eredità profonda sulla sua nazione. Grazie a tutti.